Mi trovo qui davanti a una delle prime pubblicazioni a stampa della Divina Commedia di Cristoforo Landino e abbiamo dei disegni di Botticelli, una preziosità appartenente alla proprietà della Fraternita dei Laici e che oggi è in giacenza presso la nostra biblioteca. Il Museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande riapre finalmente le sue porte ai visitatori e non poteva esserci occasione migliore per presentare l'omaggio al sommo poeta. Si tratta di un'esposizione unica e molto particolare allestita durante questi lunghi mesi di chiusure e che rientra nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Dalla mostra abbiamo dei documenti che per la prima volta sono esposti al pubblico, in particolare un documento che proviene dall'archivio capitolare di Arezzo che attesta un contratto notarile firmato, sottoscritto dal fratello di Dante, Francesco, per un prestito, per un mutuo, con uno spadaio a retino. Ed è la prima volta che si può leggere integralmente il documento. Poi vi sono tantissimi documenti che attestano la storia della Fraternita che sono esposti nella vetrina che è qui dietro le mie spalle. Uno documento importante, oltre che il primo statuto del 1263, abbiamo anche l'elenco dei confratelli del 1299, gli aretini che erano iscritti alla Fraternita dei Laici. Non solo famiglie nobili, non solo aristocratici, ma anche il mondo del lavoro, gli artigiani, gli operai, tutti partecipavano coralmente a questa fraternita, ci si identificavano. Il museo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18 con accesso diretto, mentre il sabato e la domenica è richiesta la prenotazione.